Si chiama dopo di noi il disegno di legge approvato dal Senato in materia di disabilità grave, una modifica al testo che dovrebbe affievolire in un certo senso angosce e ansia di quei genitori o familiari che hanno un figlio disabile e che continuamente si domandano cosa faranno quando noi non ci saremo più. L'opzione degli istituti è stata l'unica da sempre proposta, ma con il nuovo disegno di legge che prende il nome proprio dal problema si proverà a proporre opzioni alternative. Le modifiche sono state concordate con gli operatori del settore, le associazioni e le famiglie e sono state presentate questa mattina in una conferenza stampa presenziata dal senatore del PD Roberto Ruta, dall'assessore alle politiche sociali del Comune di Campobasso, Alessandra Salvatore, dal capogruppo del PD Giose Trivisonno. Il disegno di legge punta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità. Il testo interviene sulle misure di assistenza, cura e protezione dei disabili gravi, prive di sostegno familiare. Queste misure sono state integrate nel progetto individuale per le persone disabili e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona stessa già durante l'esistenza in vita dei genitori. Le misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, quando possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Il tasso approvato a maggioranza alla Camera prevedeva l'esenzione dall'imposta di successione di donazioni di trust destinati a disabili gravi. Il beneficio è stato esteso anche alla costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali. Infatti sono stati introdotti ulteriori strumenti normativi, oltre il Trust, che tanto ha fatto discutere i 5 Stelle, per destinare beni e servizi alle persone con disabilità grave al venir meno dei genitori. Ed è stata concessa la possibilità di istituire vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. Il fondo è destinato a quattro tipologie di intervento. Uno, attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di destituzionalizzazione e supporto alla domiciliare età in abitazione o gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Due, inviare residuale interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali situazioni di emergenza. Tre, realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per la creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing che possano comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione e ristrutturazione messe in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. E poi sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Fondamentale, ha sottolineato Ruta, la collaborazione tra regioni e province autonome mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Fondi di sviluppo e assistenza, dunque, è l'obiettivo principale del progetto che dovrebbe essere garantito attraverso un monitoraggio costante di interventi.